Allora, stai in guardia, ok? Io vengo a sondare, capisci? In guardia, sei qua, no? Vengo a sondare e vengo a sondare qui. Cosa succede? O agisci o vai in guardia, perché non sai se io bam vengo dritto. Io vengo a sondare qui, faccio questo roll jab, ok? Che non è questo, ma è questa cosa qui, ok? Che potrebbe essere un inganno di... Perché vedi? Ti porto qua a chiudere o a difendere, che è qua, pum, per arrivare lì dentro. Stessa cosa è se io sono qui e tu vieni con il tuo jab, io vengo a chiudere qua, per fare uno switch over dall'altra parte. Vedi? Bene. Ok? Pam! Da sotto, ho zoom, da qua. Ho tutto quello che mi serve prima che questo arrivi qua, perché se tu mi tiri questo, wang, e poi mi tiri subito un gancio, io cado in questa trappola. Allora devo, devo praticamente da qui, per evitare, per evitare, gira, wang, che arrivo a questo, devo scogitare una strategia. Allora ti do questo, questo input, ok, pum, pum. Vedi come da qua, ok? Vedi che io sto andando qui, gancio, 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 pum, pum. Ok? Oppure, pum, aspetto che arrivi al gancio, pum, metto sulla guardia, vedete, da qui, cosa faccio? Giro, pum, pum. Ok? Vai, 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 vai. Bang! Il mio vomito viene a girare qui. Bang. 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 ok, vai, tocca, ok, vai, 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 gira, gira, boom, gira, boom, ok, boom, spingi su col gomito, ecco, questo, tocca, non andare giù, ma è, eh, guarda, è dritto e gira, boom, qui su col gomito, ok, boom, ok, boom, questo qui, ora, è, pum, pum, è un gancio sporchissimo, è un diretto sporchissimo, pugilato filippino non è, non è pugilato europeo, e non stai violando nessuna regola del pugilato sportivo, perché, stai su in guardia, potrebbe essere che io vengo a darti un pugno qua, agli addominali, al fegato, la milza, ma allo stesso tempo vengo a parare con il gomito, con il gomito vengo a parare, ok, Richard, ah, è qui, ah, colpo che arriva di qua, con il guantone perde il 50% del suo potere, ma il colpo sotto l'ascella, ok, mentre tu arrivi qui, boom, e lì, vengo, alza, 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 qui, fa male, ok, altra cosa che non facciamo, pu, vai, e questo, non lo fai, nello sportivo, allora dobbiamo trovare la combinazione, c'è, jep, boom, ok, vieni, boom, risporto, e pa, qui, boom, risporto, pa, perché magari tu chiudi, perché, hai capito, jep, boom, fam, qua, hai capito che arriva qui, ok, in realtà vengo a beccare qua dietro l'orecchio, tra il collo e l'orecchio e che non posso dare il pugno qui ma lo do praticamente, invece di darlo qua a martello, lo trovo tra l'orecchio e il collo qua, bang, ok, push down, bang, pam, trampolino di lancio il tuo qua, questo deve essere, boom, deve essere giù, un piccolo tirotto e pam, ok, boom, vedi? io ho imparato a stare chiuso, boom, vedi qua, muoviti, boom, lo vedo, lo vedo, nel momento, boom, se tu dovessi sentire la necessità nel momento che io faccio questo pull, di piazzare questo dentro, bam, fallo, perché? ok, nel momento sono su, boom, 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 ho visto come ti tolgo, Visto che già con il gomito non sono riuscito ad entrare, tu metti sul gomito e non riesco Ok, vai, vai, ok, 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 ok Ok, ok Tocca, 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 vai Vai, vai Mi cerco di dominarti con una mano Tieni le guanche Sì